...insistere con il giro palla e ora si riparte da dietro con Golic, Olivier Rassa, buona la chiusura di Boabré che gli soffia il pallone, occhio al break del Crosinone che prova a ripartire a tutta velocità con il 92, occhio a Boabré, entrerà in vigore, la possibilità con il attacco, luna, mastica la conclusione e questa era una buona chance per far male. ...ma il pallone rimane sotto il piede di Luna che non riesce a concludere. E allora ancora da capo con Karaminsis, Reale, si ricomincia, palla smorzata, 1-2 che avviene uguale, occhio a Reale che va via, taglia il campo, ha la possibilità anche di sparare, prova a mettere il mirino sulla porta! ...di Palmizani che con qualche brivido gli stava... ...primi 14 minuti, risultato di 0-0... ...poche a dire la verità le chance per togliere il lucchetto al match, Costa che si abbassa, ricomincia da capo, apre ancora sulla sinistra, Golic ha spazio... ...oliveras molto alto, la palla ancora in centrale con... ...le a controllo... ...l'apertura sull'au di destra... ...occhio ancora alla Roma in area di vigore con la possibilità di calciare! ...grande chance anche per Pagano che... ...come Luna... ...cora tentato tra... ...Selvini, Luna e Boccia... ...palla chiusa da Karaminsis, si torna da Marin, palla centrale rischiosissima... ...docchio recupera ancora del Frosinone, Luna in area di vigore, Selvini, grande chance! ...e questa... ...è forse la chance più nitida... ...eccola qui, con Golic che lo lascia correre, poteva anche calciare, invece c'è il calcio d'angolo, palla che rimane fuori... ...occhio alla possibilità, Cichella di controbalzo... ...il pallone che arriva in bocca a Marin... ...e allora si scalda il match... ...e occhio al calcio d'angolo del Frosinone al minuto 40... ...palla che può finire nel mezzo con l'incornata tentata, palla che resta lì il palo! ...pallo clamoroso in mischia di Paic... ...dassù gli sviluppi di calcio d'angolo... ...ma il palo della porta di Marin che salva la Roma e lascia il risultato sullo 0-0... ...Prosinone però che prende coraggio e continua a rimanere nel metà campo della Roma... ...insiste ancora con Selvini, numero in mezzo a due... ...prova a caricare altra botta! ...e stavolta i pugni di Marin... ...uno-due clamoroso! ...della Frosinone... ...prima il palo di Paic... ...poi la cannonata di Selvini... ...ma il sistema penetrato in campo... ...rischia sul pressing di Luna... ...palla lì indietro per Marin... ...Che era Mizzis... ...reale si sgancia... ...va in profondità... ...corcia ancora Costa... ...molto centrale... ...encora una volta prova a dare supporto alla manovra della Roma... ...Oliveras... ...Pagano... ...Costa... ...Pagano... ...Romano... ...dentro ancora... ...tutto troppo facile... ...per Palmisani che controlla... ...e allora si richiede del... ...primo tempo... ...e allora il fischio del direttore della vittoria salirebbe proprio a meno tra i dai felsinei... ...intanto si ricomincia ancora con il pallone nella mezzo... ...spazza la difesa... ...della Roma... ...controbalzo... ...tentato... ...palla importante... ...ma controllata senza troppi problemi... ...palla ancora larga... ...Pagano col tacco... ...Occhio Liveras che ha spazio per andare... ...palla centrale... ...sballata con il recupero della sfera... ...da parte di Boabre che galoppa sulla fascia destra... ...apre ancora per Selvini... ...ne ha due davanti... ...ci passa in mezzo... ...ancora Selvini... ...arma al sinistro... ...potrebbe calciare... ...qua si fa ingolosire dalla situazione... ...ma la chiusura... ...con il destro di Capitan Selvini che cerca riferimenti all'interno dell'area di rigore... ...dove sono saliti anche i centrali... ...occhio al pallone sul secondo palo... ...sfera che resta lì... ...la controlla... ...Marin... ...con Reale in... ...eccolo il tracciante con il colpo di testa attentato... ...anzi... ...totutti... ...riparta ancora la Roma... ...da destra con Costa... ...all'indietro... ...ancora Kesti che prova a impostare sul passaggio di Mirra... ...lo scambio tra i due... ...sempre largo Reale... ...allora si ricomincia ancora una volta con il pallone all'indietro... ...altra palla centrale... ...lo scambio ancora... ...con la possibilità di andare dentro in area di rigore... ...l'uno-due... ...palla che torna... ...Pisilli... ...possibilità di sparo... ...palla che resta lì... ...traversa... ...clamorosa... ...e in un sol boccone... ...vice con... ...il pallone sul secondo palo... ...una telefonata... ...per Palmisani che risponde presente... ...e allora si ricomincia ancora con il Frosinone in avanti... ...e allora altro pallone che viene tracciato in avanti... ...a cercare ancora Buabre... ...Oliveras di testa disinnesca... ...ma c'è ancora il possesso palla per il Frosinone... ...altra palla larga... ...Buabre la prova a tenere in campo... ...Oliveras lo chiude... ...e allora ancora Paic... ...centrale... ...Cicchella che taglia... ...Selvini... ...palla rimorchio... ...occhio alla possibilità... ...Luna prova a calciare il muro... ...ancora una volta... ...mira che si mette davanti... ...pallone che viene recuperato... ...attenzione ancora al Frosinone... ...qui Selvini attentato con il sinistro... ...troppo morbido per... ...sorprendere un attento Marin... ...tocca la gamba sinistra ma si rialza... ...ancora con il pallone all'indietro... ...1922... ...1922... ...como te... ...como te... ...como vicini Romano... ...romano... 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 ...enora si ricomincia ancora con... ...Alessandro Romano che... ...apre sulla sinistra... ...la prossima cambio... ...como arriva... ...occhio anche i cambi... ...a meno da quello che ascoltiamo dalla panchina... ...Graziani che ha già... ...sprecato una buona chance... ...occhio a Pagano che potrebbe liberare il destro... ...e calciare... ...balla che finisce quasi per strada... ...eccoli intanto i cambi... ...una volta da dietro... ...e pallone girato da... ...Marina per... ...Oliveiras... ...la corcia ancora Pagano... ...lo scambio tra i due... ...molto lezioso... ...con... ...ancora... ...Ferizai che recupera... ...ancora il Frosinone negli spazi... ...palla che sembra buona... ...Selvini la mette in mezzo... ...attenzione alla girata... ...palla miracolosa... ...palla che resta lì... ...in due tempi... ...Marina a dire di no... ...grande chance alla minuto... ...negli spazi per... ...Selvini... ...ve stare attento... ...Oliveiras... ...che qua... ...una grande giocchiata... ...riesce a... ...divincolarsi... ...della marcatura di Selvini... ...a recuperare... ...a tenere il pallone... ...reale... ...Costa... ...prova ad accendersi... ...il numero undici... ...doppio dribbling... ...a centrale... ...anzi apre sulla sinistra... ...Pagano la mette giù... ...ancora per Oliveiras... ...qualcosa non sta piacendo... ...però a Guidi... ...pronto un cambio... ...che potrebbero essere anche due... ...ricomincia ancora da destra... ...Reale... ...Costa... ...non lo lascia passare Romano... ...allora si ricomincia... ...ancora con Costa... ...temporeggia... ...dentro per Reale... ...taglia anche Pisilli... ...Reale col sinistro... ...a cercare qualcuno in area di rigore... ...disiniesca tutto... ...Pagano... ...dora posizione di Oliveiras... ...ancora palla buona... ...la tiene Graziani... ...che si butta in area... ...dentro ancora per Pagano... ...che arma il destro... ...prova... ...eccola la risposta della Roma... ...grande parata di Palmisani... ...calcio di condizione per il Lefrosinone... ...con boccia sulle punti di battuta... ...tagliato in mezzo... ...occhio al tentativo aereo... ...ci ha provato proprio Petta... ...che non inquadra però... ...lo specchio della porta... ...pallone molto largo... ...lo scatto di Luna... ...li anticipo però Reale... ...Mirra che fa il movimento... ...Marine che va da lui... ...e allora ancora Mirra... ...altra possibilità di andare in profondità... ...Costa... ...controlla... ...gioca all'indietro ancora per Mirra... ...non vuole buttare via il pallone da Roma... ...ora Mirra però va in profondità... ...la mette giù ancora Pisilli... ...a mezzo a due... ...tiene il pallone nel traffico... ...e poi va centralmente... ...Roma smarcati... ...Rocca... ...1 e 2... ...Pippa... ...Ancora... ...Alessandro Romano... ...prova ad impostare... ...alto tracciante in avanti... ...a cercare Misitano... ...che la mette giù... ...buono il controllo del 9... ...il tacco ancora per Graziani... ...che non controlla... ...palla che resta lì... ...Misitano che calcia! Ora... ...vede ora... ...non inquadra lo specchio della porta... ...ma chance per la Roma... ...al minuto... ...l'intera posta in palio... ...e la Roma insiste... ...ancora con... ...la possibilità di Alessio... ...chiuso Costa... ...riparte Frosinone... ...chiede palla proprio... ...ileneo entrato... ...vediamo se... ... riesce a gestirla... ...temporeggia un po' troppo... ...il Frosinone adesso però... ...c'è una buona chance... ...le break centrale... ...proprio di Milazzo... ...che porta palle... ...fresco... ...prova ad andare... ...ancora per Selvini... ...che arma al destro... ...vole andare in mezzo... ...con la palla che attraversa... ...tutta l'area di rigore... ...occhio a Milazzo... ...la vuole mettere giù... ...ancora il Frosinone... ...area di rigore... ...spazza via tutto la Roma... ...con Luna... ...che non è riuscita a controllare... ...e allora recupera... ...ancora una volta... ...Zacnic... ...ancora larga... ...per Selvini... ...che aspetta... ...e poi va a tracciare... ...ancora una volta per Ferrizai... ...tutto buono... ...resta bassa la bandierina... ...la palla in area di rigore... ...la possibilità di andare in mezzo... ...il pano... ...la palla che resta lì... ...incontra il Frosinone... ...incontra il Frosinone... ...incontra il Frosinone... ...incontra il Frosinone... ...la mette dentro Luna... ...al minuto 92... ...al minuto 92... ...il Frosinone... ...vuole riaccendere il sogno salvezza... ...che adesso... ...diventa una speranza... ...Frosinone 1... ...Roma 0... ...Ferrizai per... ...Selvini... ...la palla dentro... ...palla che... ...l'ipto... ...loch... ...l'ipto... 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 Grazie a tutti.